Una nuova stagione al Via, i primi allenamenti per farsi trovare pronte e il rettangolo verde dell'Antonucci di Bitetto a fare da scenario. Le ragazze della Pink Bari sono tornate ad allenarsi con grande entusiasmo, molte certezze e qualche novità. I primi giorni di allenamento per le ragazze della Pink Bari, il caldo si fa un po' sentire anche qui a Bitetto. Beh diciamo di sì, dopo i temporali oggi sale un po' la temperatura, sia per l'allenamento che per il reale caldo. L'anno scorso è una stagione che ha dato tante emozioni, fino all'ultimo. Quest'anno quali sono le sensazioni da capitano all'interno dello spogliatoio? Beh sicuramente sarà un'annata difficile come l'anno scorso se non più perché il livello è aumentato. Ma sicuramente siamo una squadra però che già si conosce e questo ci agevola nel riuscire a migliorare le aspettative. Quindi lavoriamo sodo e cerchiamo di portare a casa un risultato migliore dell'anno scorso. Magari di finire prima il campionato. Siamo abbastanza unite sia fuori che dentro il campo, ci stiamo allenando bene, anche se fa caldo comunque c'è da lavorare molto. Abbiamo fatto una preparazione atletica più che altro, però le ragazze nuove in aggiunta hanno aumentato il livello tecnico-tattico e l'hanno scelta per questo e noi siamo contenti. Tra le nuove è arrivata la centrocampista bulgara Simona Petkova, campionessa di freestyle, un po' emozionata per la telecamera ma dotata di una tecnica straordinaria. Quando vedo la camera, non è la stessa. Sì, è difficile. Mi aspettavo di avere un livello molto diverso, questa è la cultura, la Serie A. Per me è molto buono, mi aspettavo di avere un livello molto alto di football, molto buone capacità, molto buone donne, molto buone team, qualità sul pietro. A guidare il gruppo anche quest'anno, mister Roberto D'Ermiglio, già concentrato sui prossimi impegni. Oramai la stagione passata l'abbiamo messa alle spalle, è stata travagliata ma entusiasmante, quindi ripartiamo per un altro campionato di Serie A con un grande entusiasmo e con l'arrivo di giocatrici che hanno aggiunto sicuramente un valore a livello della squadra. Abbiamo confermato il grosso della squadra dell'anno scorso e questo ci facilita un po' anche certe situazioni. Sono state bravi ad accogliere le nuove, le nuove bravissime ad inserirsi subito, quindi in pochi giorni già si vede un gruppo che sta nascendo nella maniera giusta. Cosa è diversa nel calcio femminile rispetto al calcio maschile, proprio nell'atmosfera che si vive all'interno di uno spogliatoio come questo? Diciamo che delle differenze ci sono, ma bisogna entrare nella testa delle giocatrici, bisogna capire la loro psicologia, le loro aspettative, le loro motivazioni e quindi poi cercare di tirar fuori dalle ragazze il massimo del potenziale che hanno. Loro hanno un grande entusiasmo, una grande voglia di fare, di lavorare, quindi questa è una cosa bellissima che è molto gratificante per un allenatore come me che fa le cose sempre con grande passione. Grazie a tutti.